Anziani che non dormono di notte, abitanti che inseguono i ladri nei campi, quattro furti alla settimana. Valconasso è sotto assedio. Nell'ultimo anno la frazione di Ponte Nure, che conta 350 abitanti, è nel mirino dei topi d'abitazione. La situazione è un po' critica qua, perché noi di sicurezza qui non se ne parla, diciamo, sarà una cosa generale. Però qui, negli ultimi tempi, noi siamo sotto sequestro da questi ladri qui, che una settimana sì e una settimana no ce li abbiamo qui. Io non so adesso fino a che punto potremo resistere su questa situazione qua. La situazione è un po' insostenibile, nel senso che ogni 3x2 sono qua a rubare o cercare di entrare nelle case delle persone. non ne possiamo veramente più. Cosa rubano? A volte sono accontentate anche di una cassetta di mele, però tanto vengono dentro, ti spacca la porta, addirittura un signore se li sono trovati davanti al tavolo mentre stava mangiando. Spesso abbiamo la visita di queste persone, chiamiamole persone, che però ci rovistano dappertutto, buttano all'aria tutte le nostre cose, portano via oggetti, soldi, insomma, tutto quello che trovano. E ci sentiamo presi di mira e siamo stanchi di questa situazione. A casa mia sono venuti, tre volte sono venuti, da mio figlio due, mentre loro dormivano. È questo qua che ci fa paura, perché alle due e mezza di notte, mentre loro erano andati a letto, sono entrati. Poi mio figlio ha due bambini in casa piccolini e questo ti spaventa tanto. Esasperati gli abitanti hanno formato un comitato, Valconasso sicura. Chiediamo le telecamere in punti strategici del paese, poi verso anche le forze dell'ordine chiediamo più controlli, perché comunque non è che passano molto spesso. E poi chiediamo anche più, come si dice, corsi di informazione verso i cittadini e poi anche fare una illuminazione verso le strade principali del paese. Abbiamo anche organizzato un gruppo su WhatsApp con tutti i numeri telefonici del paese, chiunque vede una macchina sospetta delle persone in giro, messaggino rapido e tutti ci allertiamo.